Signori, quale ospite? Abbiamo un graditissimo ritorno, graditissimo perché da voi richiesto niente po' po' di meno che Vittorio De Sica! Benvenuto, benvenuto al musichiere! Buonasera, buonasera, io è la seconda volta che capito qui, anzi il pubblico mi perdonerà se io mi presento per la seconda volta al musichiere ma sono stato così insistentemente e gentilmente invitato, eccomi qua. Non solo ti perdonerà ma credo che è colpa loro se tu sei qua, t'hanno richiesto proprio a viva voce, a viva lettera direi e dopo te ne spiegherò anche il perché. Innanzitutto dalla tua assenza caro Vittorio hai visto che c'è un certo miglioramento perché io sono riuscito a vincere quel certo complesso che mi impediva di darti del tu, che mi impediva, appunto Siamo colleghi Eh beh, no, quello che mi dispiace è che adesso la prima volta che ti do del tu così io insomma debbo farti un piccolissimo rimprovero Tu sei un regista valentissimo, lo sappiamo, hai diretto tanti film ma a me non mi hai fatto lavoro mai insomma Guardi questa è una cosa che io dico a tutti i miei colleghi, i miei film sono talmente così speciali nel genere e i personaggi sono veramente così particolari Per esempio tu potevi fare uno choucha Eh no No Potevi fare il bambino di ladri e di biciclette Eh no Il bambino di ladri e di biciclette No Un drammatico Il barbone del miracolo a Milano Beh, no, neanche facendomi crescere a barbone No, no, ma quelli sono autentici i barboni E poi sono troppo nutrito io Ma guarda che il prossimo film, no, non proprio il prossimo Perché il prossimo sarà la ciociara E quindi non puoi fare la ciociara Eh no, la ciociara io no Il prossimo, il seguente sarà il giudizio universale Ecco Ecco, dice un personaggio importantissimo per te Biblico? Sì, importante Che parte è? Mario River Quella faccio bene Eh, quella è la sola cosa che sei fatto Eh già, eh Eh, dico, in quella parte lì non me la leva nessuno Quindi, dico, non c'è neanche bisogno di fare un provino, no? Adesso scusami un'altra domanda Forse un po' indiscrita Ma l'ho notata io e tanta altra gente Prima tu, Vittorio, camminavi con un certo portamento Elegante, distinto, da gran signore Ma lento, posato Adesso è un po' di tempo che ti vediamo currere per la strada Ah, beh, per questo, sì, hai ragione Perché? Che succede? Non, adesso, appena dopo la trasmissione di quella commedia televisiva Sì, vita col padre Vita col padre e con la madre Ecco, io là mi hanno fatto fare un paralitico Eh È successo che la gentile e cara signora Parlavicini Sì Ha detto al marito, a Parlavicini Sì La macchina, mi facevo vedere da tutta Roma Camminare Veloni Come un giovincello Ecco, per questa ragione Io sto bene, grazie Eh, me lo credo Sta benissimo, veramente Terza domanda Non imbarazzante, si intende Ma spiegami perché Tanta gente ci scrive Per domandarsi Fate cantare A Vittorio De Sica Signorinella Perché? Ma perché? Ma perché proprio a te? Che io non ho mai cantato Nella mia lunga carriera Di attore, cantante, canterino Quando ero giovane Io facevo Il fine di citore Il fine di citore Non ho mai cantato sta canzone E poi Mi hanno fatto fare un disco Un disco una volta Ma l'ho cantato così male Perché forse il maestro Mi ha fatto una tonalità troppo bassa Una voce proprio impossibile Io non capisco come il pubblico Voglia questa canzone Mi spieghi questa l'arcano Ma il pubblico a volte è strano Però io credo che bisogna contentarlo Io chiedo scusa al pubblico Data l'insistenza Data la cortese Insistenza qui del nostro amico Riva Io canterò questa canzone Ma con una tonalità possibile Ma non so le parole Ah beh per le parole c'è il gobbo scritto Cos'è il gobbo? Quello che leggevi quando facevi il romanzo sceneggiato E non scoprirlo E tu mi domandi che cos'è il gobbo A proposito di romanzo sceneggiato Levami un'altra curiosità Ma tu prima di ogni puntata Ti mettevi in poltrona a rodella E facevi quel lungo discorso No io ho tutto in una giornata Tutte e quattro Tutte e quattro Con quattro gobbi Con quattro gobbi Beh è meglio che la piantiamo qua Se non scopriamo troppi altarini In tutti i modi Il nemico è alle tue spalle Il disegno Eh devi indovinare Chi è? Non deve essere difficile Quanti trattini vuoi? Dieci Dieci trattini per Vittorio De Sica So io Esatto È Vittorio De Sica Completiamo Non c'è più di un po' giovane No 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 Non essere troppo modesto Non più giovane Oh ma dico questo Dico non ci dimentichiamo mica Che hai promesso di cantare Signorinella vero? Vabbè Io speravo di farla No 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 Hai vinto quattrocento mila lire A chi le dobbiamo mandare? A metà A metà Dunque metà Al comitato nazionale italiano Del rifugiato Va bene E l'altra metà All'asile infantile Del mio paese Va bene Sono nato A Sora A Sora Va benissimo Grazie Ed ecco a voi Vittorio De Sica In Signorinella Voi mi scuserete Vero se Non sono Un urlatore Come Tony Dallara Ho la voce Di Modugno Io ho una Piccolissima voce E cercherò di accontentarvi Signori nella pallida Dolce di limpettaia Del quinto piano Non v'è una notte Che non sogni Napoli E son vent'anni Che resto lontano Al mio paese Nevica Il campanile Della chiesa E' bianco Tutta la legna E' diventata Cenere Io sempre freddo E sono triste E stanco Amore mio Non ti ricordi Che nel dirmi Addio Mi mettesti All'occhiello Una panse Poi mi dicesti Con la voce Tremula Non ti scordarmi E gli anni e i giorni passano Uguali grigi Con monotonia Le nostre foglie Più non riverdiscono Signorinella Che malinconia Tu innamorata E pallida Più non ricami Innanzi Al tuo telaio Io qui son diventato Il buon Don Cesare Porti il mantello A ruota E poi Il notaio Lenta E lontana Mentre ti penso Suona La campana Della piccola Chiesa Del Gesù E nevica Vedessi Come nevica Ma tu Dove Sei tu Mi abbiamo fatti con te Ne hai tanti Non credo che uno di più Ti darà fastidio Va bene Grazie caro Vittorio Grazie per essere tornato Perdonaci le insistenze Te ne saremo tanto grati Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.